Occhi puntati su Buckingham Palace dopo la notizia della diagnosi di tumore ricevuta da Re Carlo III. Il palazzo non ha rivelato di che tipo di cancro si tratti, ma ha affermato che non è collegato all'ingrossamento della prostata, per cui il monarca a 75 anni era stato recentemente ricoverato. Carlo ha già iniziato la terapia, un segnale positivo secondo gli esperti, che sottolineano l'importanza di una diagnosi precoce. A meno di 18 mesi dall'inizio del suo regno, Re Carlo III dovrà sospendere gli impegni pubblici. I più importanti saranno assunti dalla regina consorte Camilla e dall'era dal trono, il principe William, ma il monarca continuerà a occuparsi degli affari di Stato. Il figlio minore, il principe Harry, sarebbe già in volo da Los Angeles a Londra. Grazie